E' arrivata la dodicesima edizione, c'era una foglia, il progetto concorso che vede protagonisti gli alunni delle scuole primarie e le loro insegnanti, un'iniziativa di carattere regionale che crea una rete tra le istituzioni, amministrazioni, scuole e aziende del territorio per un progetto che oltre che educativo è anche di solidarietà. L'obiettivo è quello di motivare i bambini a pensare liberamente e soprattutto stimolare la riflessione su uno stile di vita più sano ed ecologico. Per l'edizione di quest'anno il tema scelto è quello dell'alimentazione come energia per la vita, dando come titolo del progetto una fiaba dedicata al cibo. Con il progetto è previsto un concorso in cui le scuole primarie sono invitate ad elaborare un testo, che sia fiaba, storia o poesia, dedicato al cibo, come energia della vita. Gli elaborati saranno raccolti e selezionati da una giuria di esperti e pubblicati in un libro illustrato da professionisti. Dall'anno scolastico 2002-2003 questo progetto ha già coinvolto oltre 7.000 alunni ed alunne di 161 istituti e scuole primarie marchigiane. Ad oggi l'iniziativa ha già raccolto e pubblicato 540 lavori, tra storie, fiabe e poesie, tutti pubblicati sul sito www.spazioambiente.org. I proventi derivanti dalla vendita d'offerta del libro, come nelle precedenti edizioni, saranno destinati ad un progetto di solidarietà internazionale. Quest'anno il progetto è interessato il centro di accoglienza Ulisso, che oggi ospita in una cittadina vicina ad Addis Abeba circa 800 bambini, che in questo modo hanno la possibilità di frequentare la scuola materna e primaria.